Hola a todos, buongiorno Buongiorno Stamattina Faremo un salto Al cottage Dei mie zii, sul lago Perché devo fare i servizi, perché domani Partiamo per Ottawa Quindi niente, vi volevo portare con me Anche oggi, spero che stiano I piacenti i video che sto facendo in questi giorni E ci vediamo quindi Random in questo video E poi uscendo di casa, ti trovi il giornale Ok ragazzi, siamo sulla strada Per andare, insomma, al lago Stiamo andando sempre più a nord Sempre più sfreddo, a quanto ho capito Tiamo detto che da qualche parte qui è nevicato E siamo appena salita A Tim Hortens A prendere un po' di qua Un po' di qua, un po' di qua, perché Fa un freddo che Non ve lo dico, perché Meglio che non ve lo dico Non ve lo dico Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come dice il zio che l'ha studiata bene questa chiesa, l'hanno costruita tanti anni fa dei costruttori. E si vede pure che hanno stato delle pietre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.